Pronto, Barbie? Dove sei? Ti aspettiamo, Barbie! Sì, sì, arrivo! Ci vogliono cinque minuti per arrivare da voi! Guido, la macchina c'è da dieci anni! Aspettatemi, ragazzi! Dai, Barbie, chiudo perché sei in macchina, Guidi! Eh, vabbè, non fa niente! Oh, scusa, chiama mia mamma! Ciao, mammina! Ciao! Oh? Oh? Aiuto! Oh no! Albero! Barbie, Barbie, che succede? Barbie, Barbie, che c'è? Oh, Barbie! No, Barbie! Oh, Barbie! Barbie, come ti senti? Dove ti sei fatta male? Barbie, mi senti? Barbie! È svenuta! Chiamo l'ambulanza! Salve, qui c'è un incidente! Sì, sì! Vi prego, venite presto! Sì! Oh, che succede? Mi si giro la testa! Che è successo? Che è successo? Non mi ricordo niente! Non ti preoccupare, Barbie, ti aiuteranno in ospedale! Oh, mamma mia! Oh, mamma mia! Spero che si riprenderà presto! Anch'io! Oh, che disgrazia! Ehm, proviamo a riparare la macchina! Ah, mi si giro la testa! Ma che anno è oggi? Ciao, Barbie! Che succede? Eh, salve, signora! Ci conosciamo? Barbie? Ma non ricordi chi sono? Facciamo la diagnostica! Attenta! Oh, Barbie! Vediamo! Qui tutto è a posto! Strano! Ah, che male! Sei sicura che non ricordi niente? No, mi sento malissimo! Ok, Barbie, vieni qua per un attimo! Così! Misuriamo la pressione! Un pochino basso! Ma hai mangiato qualcosa oggi? Non mi ricordo! Sì, magari non ho mangiato niente! Ho fame! Qualcuno ti sta chiamando! Adesso vediamo cosa è successo! Chris? Ciao! Ciao, Aya! Come si sente Barbie? Come non ha raccontato niente! Ma è successo un incidente qui? Sì, lei dice che non ricorda niente, però si sente bene, cioè non vedo niente di grave! Inci... Ah! Incidente! Sì! Ah! Hai ricordato qualcosa? Stavo guidando la macchina e parlando al telefono ed è successo un incidente! Oh! Allora, io non vedo niente di grave qui! Hai perso la memoria, sì, però per la causa dello stress, credo! Mi aspettano ragazze e poi ho tantissima fame, veramente! Ragazzi, arrivo! Barbie, se ti sentirai male, chiamami, ok? Barbie! Ragazze, mi serve subito un panino! Barbie, ho riparato la tua macchina! Però non te la darò! Eh, grazie, Ken, ma... Perché? Perché non devi parlare al telefono guidando la macchina! Ma certo, ma non lo farò mai più! Barbie, tieni un panino! Grazie, Chris! Oh, meno male che tutto è finito bene!